Le 15.45 siamo in diretta su rockerrorradio.it abbiamo annunciato la presenza di ospiti che abbiamo il piacere di avere in studio tra l'altro i tempi saranno davvero serrati quindi l'incontro sarà rapidissimo lo concentreremo in un unico intervento quello che faremo insieme a Jamie degli Heybreed e Brandon degli Heybreed in True Ciao ragazzi, benvenuti a Rockerrorradio Grazie per noi La prima domanda è come il tour, come va? Come si tratta? Come si tratta? Come si tratta? Buono, 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 buono le film per noi L'ultima volta che eravamo qui era con Lama Gauda quindi questa è stata un buono, buono, buono Hai spiegato in Italia e in Milano molte volte, qual è il tuo sentimento con l'audito? Mi piace, perché i hard core e i heavy metal riusciano molto profondamente. Sì? Sì, è fantastico. Especialmente l'ultimo show con Lama Gatto è stato fantastico. È stato molto bello in questa tour, con tutti i nostri fanci, per assicurare che venivano e supportano noi. E ti senti che giocare con altre band, come Festival, preferisci avere il tuo show, il tuo headline, qual è la differenza per te? Sì, io preferisco un headline perché possiamo giocare un set più lungo, possiamo avere un nuovo stage per noi, non possiamo fare in fronte di gear e non possiamo giocare con il foot of Rome, ma è il sacro che devi fare per ottenere i nostri fanci. E i machinehead fanci amano hatebreed, quindi è molto bello. Cosa ti ha? Cosa ti ha il plan di futuro per la band? Siamo a tour con Korn e Rob Zombie in gli Stati. Iniziamo quando? In giulio 7. E poi torniamo a tornare a Europa dopo, quindi ci siamo tornati qui, e spero di fare un headline show, fare un'ora e mezza di sedi, e poi fare tutte le nuove canzioni. Cosa ti ha? 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 Oh, grazie. Oh sì. o se il cambiamento avviene più veloce, ma l'ultima notte abbiamo preso un cover Slayer e oggi stiamo pensando di fare alcune cani più vecchie, vediamo! sul palco scenico del Leicath di Milano, cosa ti senti? La tour è andata molto bene, per una banda che si tratta di più. Abbiamo venuto in Europa molte volte, ma avere la possibilità di giocare in fronte di queste persone ogni mattina è una cosa davvero bella, e per tourare con bandi come Machine Head e Haybreed è una torre per noi non solo siamo amici di quella band, ma essere amici, 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 amici un'amico, è un'amica, 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 un'amica che ci sono state vediamo per la prima volta, e questo è quello che abbiamo bisogno abbiamo sempre divertito quando stiamo in Italia, perché il pubblico è molto spazionato Sì, io sono italiano, quindi ho scoperto la pressa un po' di volte alcune persone vengono a me e hanno cercato di parlare italiano, e mi sono proprio non lo so, non lo so, sono americano-italiano ma è una buona cosa, questa tour è stata davvero buona per noi e ogni mattina ci sono nuovi fani e molta passione all'Europa, e è una buona possibilità per usare la nostra musica a nuove persone anche per te, qual'è il plan per il futuro? il nuovo record è venuto, quando sarà? il nuovo record sarà venuto l'April 13, su Roadrunner Records sono molto felice di venire su Roadrunner abbiamo preso un record e ora è bello di venire con la famiglia e sentiamo molto piacere con Roadrunner Records il record sarà venuto, e questo summer siamo venuti a fare festivali e spero di venire in Italia questo summer e cosa c'è il nuovo materiale? è vero, è vero, è davvero aggressivo ma ancora ha alcuni ritornati c'è ancora una melodia, ma è davvero molto intensa io sento che con ogni record è un po' più intensa perché credo che siamo più intensi tu hai detto che il record sarà venuto in April quindi sarà un vero molto intensivo per te tu dovresti giocare? sì, spero di venire qui a giocare di festivali se non c'è anche un livello di festivali nel settembre quando arriviamo a fare la festivale europea è un festival di festivale e come ho detto, sempre spero di venire c'è molta passione che va all'interno per la musica e tutto in generale c'è molta buona attitudini e che rende te senti molto caldo quindi siamo molto felice abbiamo fatto un grande show grazie per averciato qui grazie a tutti per averciato 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 per la musica no, voglio vedere te in la pit tu devi essere in la circolta no, no... sono molto già se l'è... va bene va bene se non c'è erano si il vino di energia va bene va bene va bene va bene va bene va bene lo farò grazie grazie a Jamie degli Adbry e a Brandon degli Bleeding Through l'appuntamento con loro è rimandato questa sera sul palco dell'Alcatraz di Milano dove suonaranno insieme ai Machine Head quindi sapete che staccare il show? 6 o'clock 6 o'clock? Non lo so, magari Sì, ma non comprate le tapparate Ma non comprate le tapparate Ok, consiglio è quello di andare presto All'Alcatraz E Jimmy dice comprate le magliette all'interno Del locale e non quelle Che vendono all'esterno Questo è un giusto consiglio per voi Grazie a Height Breed & Bleeding True Noi continuiamo con il Mad Max A presto Max, a speduto